... Ma, Cappo, chi è quel tipo losco? Questo è mio figlio. Questo è un noto bastardo. Si veste da bambino piccolo per passare il nostro palo, ma prima o poi, o poi, lo prenderò. Stai a te, stai a te, che cazzo guardi. Ma guarda qua, questa qui è una noto puttana, non sai quanto è un po' che sta arrivando. Ma sto poi chiedendo a qualche banconoda. Che succede capo? Mamma mia, mamma mia! Comissario! Comissario! Complimenti comissario. Ottima mera. Bando le spudazze. Chiamatemi Cesare ragazzi. Mi sembra un parrucchino? Lo so. Sbagliato. Moroni, chiamatemi Cesare. Commissario, cosa vuole da me? Lei è una donna molto importante È la nonna dell'assassino Ha mai visto questo? Ma questa è una donna nuda Volevo dire questo No, no, mai Come stai, perisco? Cretino Questa è una colluttazione con il rappresentatore solitario Vai via Cosa hai intenzione di fare? Lo abbatterò con questo Ci ho già ucciso 25 unitoni in chinostrale Siamo sicuri? Tranquillo Sì, ma che pezza, ragazzi Questa è una molto grande Molto alto E il boomerang che gli è arrivato Gli è arrivato proprio Di tutta forza Gli ha fatto male Infatti il tocchera proprio Che si sentiva Di chi è questo? Guardi Giuro che Di chi è questo? È suo È suo Notare l'altezza Ha visto che è suo? Oddio, oddio Che lo sapevo al solito Ma ci viene la botta Ma io sono l'ufficiale di polizia Aiuto Ma ne frega niente Sono l'ufficiale di niente Notare Ma no C'ho paura, c'ho paura C'ho paura, c'ho paura Oddio, oddio Oddio Quello pazzate Bello Bello Impossibile E lei Lei sia ferma Perché adesso passo a lei Va bene Va bene Tanto io non ho paura Né di lei Né di nessuno Ora di Dio Fa che tocco di colore Da che ci siamo un paio di mesh Sì, perché no? Eh certo Come vuole Già pure si trova C'è il servizio completo Certo Ragazzi Ma sei cretino Apri il finestrino No Come si commissario Non lo vede Ammazzo, mannaggia Già quello Già quello Già quello Ah, lascia Ti cazzo Comissario Com'è? Polizia Non si Io cancelled Com'è? Ficino Mi 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 Si Se Mi Ai Mi Si 起來 E Si Ah, l'ha preso, l'ha preso. Commissario, ho preso. Un momento! Commissario! Stai fermo. Ok. Allora... Anzi. Questo qua lo portiamo alla centrale, eh. Sì, ma lo fate una presa. Anuretti. Anuretti se prenderò. Che cazzo dice? Anuretti i pantaloni, i pantaloni! I pantaloni! I pantaloni! Alla centrale cammina, va. Polizia, vai che sta copiando. Che cazzo sarà questo povero diavolo? Non lo so. Marco Lauria. Marco Lauria? Sì, il proprietario della palestra. Il proprietario della palestra? E tu come lo conosci? Anche lui è un compagno di scuola. Cazzo, l'ho preso. Scusi! 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 Sucure sui giornali, eh. Parca troia. Guarda qua. Grazie. L'assassino a destra, l'assassino a sinistra. Eh. La polizia abbrancola nel buro. Ti vedo? Che figura di merda? Cinque insuffazioni. Due, tre, quattro, 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 quattro. Una, due, tre, quattro, quattro, cinque. Dai! Anche! Partiro. Actuanta, partiro, quattro, 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 quattro. Quindi dice a finds... Scusi, permette, eh? Ma corto, non stai proprio fuori completamente. Il giornale, scusi. Ehi, il giornale è mio. Ehi, sì, dove è? Il giornale è mio! Guarda, povero cieco, il signore è venuto. Sant'Ommaso, aiutami tu! Fate la carità, un povero cieco! Che il signore mi aiuti! Fate la carità, un povero cieco! Fermati! Ma che c'è il vento? Ma che non viene da me? Fermati! Ti desidero, fermati! Fermati! Ci si rivede, caro cieco, eh? Veto! Questa volta è qua io vorrei il primo piano. Vai! Questa volta lo prendo e lo squatrecchio. Quanto è vero che sono di crecchio! Quanto più tardi! Quanto più tardi! falsetto! Quanto più tardi! Lo stesso Immediately!